Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine. Dite agli invitati ecco ho preparato il mio pranzo i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi ha il proprio campo chi ha i propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi la festa di nozze è pronta ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade quei servi radurarono tutti quelli che trovarono cattivi e buoni e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse amico come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ha muto lì. Allora il re ordinò ai servi legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. La sarà pianto e stridore di denti perché molti sono chiamati ma pochi eletti. Sorelle e fratelli carissimi la buona novella di questa settimana ventottesima domenica del tempo ordinario vi raggiunge da una splendida località della nostra diocesi dove è stato preparato un tavolo imbandito per un banchetto perché è proprio il banchetto il protagonista del Vangelo di oggi e anche della prima lettura quella dal libro del profeta Isaia. Gesù infatti a Gerusalemme ha raccontato diverse parabole per annunciare il regno di Dio, questo progetto di umanità nuova, di chiesa nuova che il Signore desidera si realizzi per tutta l'umanità, per il mondo intero. Il banchetto è l'ultima parabola del regno. Ricorderete che esso è stato paragonato a un campo, a un granello di senape, a una vigna come abbiamo ascoltato nelle ultime tre domeniche. Quest'oggi ha un banchetto perché il Signore attraverso l'immagine del banchetto vuole ricordarci tre cose fondamentali. Seguire Gesù è una festa. Seguire Gesù è una festa di nozze. Tante volte l'idea che il mondo ha di Gesù e del cristianesimo è un'idea di tristezza, di penitenza, di sacrifici da fare. Gesù vuole dirci seguire Gesù è essere invitati a un banchetto, è essere invitati a una festa di nozze. La gioia è il primo condimento, è il primo ingrediente, quello fondamentale di chi segue Gesù. Io e voi siamo chiamati alla gioia. Questo banchetto non si merita. Per questo banchetto nulla dobbiamo pagare, non dobbiamo portare un'offerta o un regalo al re che ci ha invitato. Il banchetto di nozze è gratuito ed è per tutti. È bello considerare quindi che la diversità al banchetto di nozze dell'agnello, al banchetto di nozze che ci propone Gesù, è una ricchezza, non un ostacolo. Ad essa, alla festa di nozze, sono invitati tutti, a prescindere dall'essere uomini o donne, ricchi o poveri, colti o ignoranti, cristiani o di altre religioni. L'invito è per tutti. La terza caratteristica del banchetto di nozze è la convivialità. Quando andiamo in un locale e vediamo qualcuno che ad un tavolo mangia da solo, credo che un velo di tristezza scende sui nostri occhi. Non è bello vedere qualcuno che mangia da solo, in qualunque circostanza, ma al banchetto di nozze è assolutamente proibito mangiare da soli. La convivialità, lo stare insieme, è caratteristica essenziale di una festa di nozze. Questo significa quindi che nessuno di noi deve pensare solo a se stesso, ma la festa deve essere pensata insieme. Di fronte a un annuncio così bello, di fronte a un annuncio che paragona il Regno di Dio a una festa di nozze, ci aspetteremmo tutti una adesione totale di coloro che ascoltavano l'immagine di Gesù, di coloro che a suo tempo avevano ascoltato l'immagine del profeta Isaia, che aveva parlato di un banchetto preparato su questo monte, cioè a Gerusalemme, lì dove Gesù stava raccontando la sua parabola. E invece la parabola ci dice che ci sono tante persone che rifiutano l'invito al banchetto. Forse quando Gesù aveva detto di andare a lavorare nella vigna, un no ce lo saremmo aspettati perché la fatica non piace a nessuno, ma rifiutare un banchetto di nozze, specialmente nel tempo in cui il profeta Isaia aveva annunciato la sua parabola o nel tempo in cui lo aveva fatto Gesù ci sembra proprio strano. In quel tempo, come anche oggi, la maggior parte della popolazione viveva nella povertà. Un banchetto di nozze era qualcosa che non capitava quasi mai nella vita di una persona e certamente ai poveri non capitava mai di essere invitati dal re al banchetto di nozze del figlio. Quindi era un'immagine per indicare qualcosa di straordinario, di eccezionale, di bellissimo e di gratuito, come già vi ho accennato. Eppure ci sono dei no. Il padrone, il re, ha mandato una serie di servi a dire venite alle nozze, ma un primo gruppo di persone dice no. Chi sono questo primo gruppo di persone? Chi rappresenta? Rappresenta le guide spirituali del popolo degli ebrei, rappresenta gli scrivi, i farisei, i sacerdoti, gli anziani del popolo. Essi dicono di no all'invito del profeta, all'invito di Gesù, perché pensano di essere già seduti a un banchetto che li soddisfi. Loro hanno un Dio che si erano costruiti a loro immagine e somiglianza. Hanno un Dio che è buono con i buoni, ma che castiga i cattivi. Hanno un Dio che premia i meriti, ma che mette da parte coloro che non fanno opere buone. Il Dio che annunciava il profeta, il Dio che annunciava Gesù, cioè un Dio che invita tutti al suo banchetto, non piaceva a loro. Non piaceva a loro Gesù che mangiava con i poveri, con gli ultimi, con i pubblicani, con le prostitute. Un Dio che fa dell'amore la caratteristica del suo regno. Perciò rifiutano. E chi sono coloro che fanno parte del secondo gruppo che rifiuta l'invito al banchetto? Sono coloro che pensano di poterselo pagare da solo, da soli il banchetto. Sono coloro che per i mezzi che hanno, la ricchezza che possiedono, le risorse che hanno a disposizione, pensano di non aver bisogno di nulla e di nessuno. Essi stanno bene così. Pensano al loro io. Non vogliono pensare né a Dio né agli altri. Stanno bene da soli. Stanno bene con coloro che loro invitano al banchetto. Si invitano ricchi con ricchi, potenti con potenti, per gli altri al loro banchetto. Non c'è spazio. Un Dio che invita ricchi e poveri non piace loro. Perciò rifiutano l'invito. Poi c'è un terzo gruppo di persone ai quali il padrone invia i suoi servi. E quel gruppo di persone è un gruppo di persone che vive anche oggi. E i servi inviati loro sono prima di tutto gli apostoli, coloro che ha inviato Gesù. E poi i discepoli, quindi anche noi, che diventati seguaci di Gesù al nostro tempo, nei nostri luoghi, sono chiamati ad invitare tutti a questo banchetto di nozze. Certamente perché l'invito sia credibile, chi invita deve aver fatto l'esperienza del banchetto, deve aver fatto l'esperienza della gioia. Perché se tu sei stato a mangiare in un locale che ti piace, sei più credibile quando dici alle persone andate lì a mangiare perché lì si sta bene. Quindi noi dobbiamo aver già sperimentato la gioia del banchetto, la gioia di stare con Gesù, la gratuità di questo banchetto, la convivialità di questo banchetto, l'accoglienza anche dei diversi a questo banchetto. E a chi ci rivolgiamo? Dove sono le persone a cui ci rivolgiamo? La traduzione italiana dice ai crocicchi delle strade, ma il testo originale greco direbbe dove le strade confluiscono, cioè nelle piazze, dove si facevano i mercati, dove c'è la vita quotidiana, dove la gente si trova lì. L'invito al banchetto deve essere portato e si trovano le situazioni più disparate, si trovano coloro che inizialmente tentennano di fronte a questo invito, si trovano coloro che dicono ma sarà vero questo invito che mi viene fatto? Davvero esiste un re che mi invita a casa sua al banchetto di nozze di suo figlio e mi invita gratis. Noi dobbiamo spingere queste persone ad entrare, dobbiamo convincere queste persone partendo proprio dalla nostra esperienza. Come fece l'Apostolo Filippo nei confronti di Natanaele che inizialmente tentennava, ma può avvenire qualcosa di buono da Nazareth? Non ti credo, è troppo grande il messaggio che mi stai facendo. Filippo dice a Natanaele vieni e vedi, così dovremmo fare anche noi con coloro che tentennano. Poi troveremo persone che ci dicono ma l'invito è per un banchetto in paradiso, per un banchetto nell'aldilà, per adesso io mi faccio i fatti miei. Noi dobbiamo convincere queste persone che il regno di Dio comincia qui, che è qui su questa terra che Gesù vuole che tutti partecipino al banchetto, è su questa terra che le diversità devono diventare una risorsa, un valore, è su questa terra che tutte le barriere devono essere abbattute. E qual è la cosa bella? Che di fronte a questa terza serie di persone mandate ad invitare la gente, la sala finalmente si riempie. E sarebbe bellissima questa conclusione. Il Signore invita tutti e poco per volta alla fine tutti accettano il suo invito e la sala del banchetto è piena. Ma la parabola di Gesù, la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, ci presenta anche due immagini che a prima vista non ci piacciono e che abbiamo bisogno di decodificare per comprenderle fino in fondo. Il re che va a distruggere la città di coloro che inizialmente avevano rifiutato l'invito al banchetto è quello senza l'abito nuziale che dal banchetto viene espulso, legato mani e piedi, fuori dove c'è pianto e stridore di denti. Queste immagini forti sono tipiche del Vangelo di Matteo, che è il Vangelo che quest'anno stiamo seguendo, perché Matteo scrive ai cristiani che provengono dal mondo ebraico e che quindi conoscono questo linguaggio perché era il linguaggio dei rabbini, dei loro maestri. Conoscono ciò che era successo al popolo degli ebrei e la grande cosa che era successa al popolo degli ebrei nel 70 dopo Cristo è che Gerusalemme era stata distrutta dai romani e questa distruzione diventa l'immagine per l'Evangelista Matteo di un mondo che rifiuta l'invito al banchetto. Se tu rifiuti l'invito al banchetto che ti fa il re, che ti fa Dio, se tu rifiuti l'invito di Gesù la società è invivibile, la società si distrugge, un popolo si scanna con un altro popolo, un popolo tenta di distruggere un altro popolo e gli eventi che questi giorni stiamo vivendo ce lo testimoniano una volta di più, proprio nelle zone in cui Gesù ha annunciato l'invito al banchetto. Se non si entra nella logica del regno, nella logica del banchetto, che è logica di gioia, di festa, di gratuità, di convivialità, di aiuto reciproco, ci si distruggerà gli uni con gli altri. E c'è l'ultima immagine, quella dell'uomo senza abito nuziale. Anche questa sta ad indicare una realtà. dopo aver ricevuto l'annuncio del regno, dopo aver accolto l'invito al banchetto, può succedere che il nostro fervore si intiepidisca. Può succedere che noi, una volta ricevuto il battesimo, la cresima, aver fatto la comunione, esserci sposati in chiesa e aver fatto battezzare i nostri figli, viviamo come se Dio non esistesse, viviamo come se ci fossimo dimenticati di Gesù. Ed è questa la perdita dell'abito nuziale. Non è la cattiveria, è aver rinunciato all'abito che il padrone ci dà per l'ingresso nel suo banchetto, per l'ingresso nella sua sala. Aver rinunciato alla grazia, alla vita di figli di Dio, aver rinunciato a rivestirci di Cristo. Possiamo aver accolto l'invito, possiamo essere diventati cristiani, ma aver dimenticato questa scelta di fede e vivere come se Dio non ci fosse, vivere come se non avessimo ricevuto l'invito al banchetto, come se non fossimo mai diventati cristiani. Dietro l'immagine brutta dell'uomo tirato fuori, l'Evangelista Matteo ci vuole dire, se non vivi secondo la logica del banchetto, se non vivi secondo la logica del mondo nuovo, tu stai fuori, sei nel buio, sei nello stridore di denti, cioè la tua vita non sarà mai piena, la tua vita non sarà mai nella gioia, tu non sarai mai felice, potrai godere di qualche piacere, potrai avere qualche soddisfazione, ma nella tua vita ci sarà sempre il buio. Allora, fratelli e sorelle, accogliamo quest'ultima parabola del regno, accogliamo l'invito al banchetto, viviamo nella gioia che Gesù ci ha portato, viviamo della gratuità che Gesù ci ha offerto, della ricchezza delle diversità, della convivialità delle differenze, come la chiamava Don Tonino Bello, e cerchiamo di rivestirci di Cristo per poter essere credibili quando andiamo ad invitare altri a questo bellissimo banchetto. Grazie per la visione!